Anche quest'anno in azione i volontari della colletta alimentare, l'iniziativa a favore delle famiglie bisognose promosse dal Banco Alimentare, giunta alla ventesima edizione. Una iniziativa benefica che rappresenta anche un messaggio di pace e integrazione. Non a case hanno fatto la spesa insieme per i più poveri a Catania, anche l'arcevescovo di Catania, Monsignor Salvatore Cristina e l'imame di Catania, Abedelfid Keit. Nel nostro comprensorio centinaia di volontari fra Adrana e Biancavilla hanno invitato i cittadini a fare la spesa anche per i più bisognosi, acquistando per loro prodotti a lunga conservazione. Nelle immagini i volontari in azione nei supermercati biancavillesi in 200 per tutta la giornata di sabato hanno donato il loro tempo per una finalità lodevole e alla fine i risultati sono arrivati. Raccolta infatti 250 scatole di prodotti vari per un peso complessivo di 2,5 tonnellate, prodotti che a fine raccolta sono stati trasferiti nella struttura di Piano Tavola, centro di raccolta del Banco Alimentale e del nostro comprensorio. Con indosso la pettorina gialla sono stati impegnati a Biancavilli i volontari della Caritas, della Chiesa Madre e delle parrocchie annunziata, San Salvatore e Sacro Cuore delle Associazioni Insieme per la Salute e Casa di Maria. E poi un gruppo di alunni del Liceo delle Scienze Umane e l'ex allieve di Maria Ausiliatrice e anche ad Adrani i volontari delle varie realtà hanno dedicato la giornata di sabato in diversi punti vendita alla raccolta di beni a lunga conservazione tra di loro, volontari e in campo da 20 anni. Noi da 20 anni facciamo la colletta tutti gli anni qua, io, la signora Abate, tutte le ragazze che sono in chiesa, la facciamo sempre, tutti gli anni. E' un modo bello per sentirsi utili, giusto? Per sentirsi utili e per dare qualcosa a quelle più bisognose. Da tanti anni fa questa attività, insomma negli anni, nel tempo, cosa è cambiato in queste iniziative? Per noi niente, certo, e ce n'è di meno perché si sente la crisi, che c'è la crisi in giro e si sente, ce n'è di meno però certa gente risponde. Sentiamo questo ragazzino, anche lui partecipa alla colletta alimentare, hai comprato del latte, tu ero? Sì, sì. Che ne dici di questa iniziativa? E' meglio perché è per i poveretti che non hanno niente da mangiare, almeno qualcosa, raccogliamo un po' di mangiare. E lei cosa ha comprato, signora? L'ho il riso, ma lo faccio quasi sempre, tutte le volte che c'è io lo faccio comunque. Ma è una bella iniziativa, giusto per aiutare? Abbastanza, abbastanza bella, sì sì, a me fa piacere fare queste cose, ma sono con me. Lei ogni anno puntualmente? Io ovunque, eravamo alla SCA che andavo sempre là, io dovunque si trovano lo faccio sempre, è un piacere per me.